A Stardom, Nagoya Big Winter, Utami, Aya Shishita e Saiya Kamitani hanno scioccato il mondo conquistando i Goddess of Stardom titles dopo che quest'ultimi erano stati resi vacanti per colpa di un infortunio occorso a Natsu Poi. Per laurearsi campionessi hanno dovuto sconfiggere Maika e Megan Bain, le vincitrici della Goddess of Stardom Tag League 2023 che si sono presentate davanti ad Afrodite con la consapevolezza di poter chiudere il cerchio e conquistare i titoli dopo aver già vinto uno dei trofei più importanti della Stardom. Così però non è stato e la vittoria è andata Utami, Aya Shishita e Saiya Kamitani dopo che anche i membri di Queen Quest erano rientrate da degli infortuni che le avevano costrette ferme ai box per svariato tempo precludendo la loro partecipazione da prima al 5 Star Grand Prix e di conseguenza alla Goddess of Stardom Tag League. Sì perché Saiya Kamitani si infortunò proprio durante la prima giornata del torneo più prestigioso della federazione quando nel main event dello show affrontò l'allora World of Stardom Champion Tan Nakano. Durante tale match Golden Fenix si procurò un infortunio al gomito che la tenne lontana dal ring per ben 4 mesi. Discorso analogo per Utami Aya Shishita che si infortunò poco prima della finale del 5 Star Grand Prix e dovette saltare gli ultimi match, quelli più importanti, dicendo addio alla possibilità di conquistare il torneo per la seconda volta in carriera. Questi due infortuni tennero dunque lontane le due atlete per diverso tempo e come detto in precedenza non diete l'opportunità ad entrambe di partecipare alla Goddess of Stardom Tag League, torneo vinto proprio da Divine Kingdom, team che le Afrodite affrontarono giusto appunto per decretare le nuove Goddess of Stardom Champions. Dopo una dura battaglia Utami Aya Shishita e Saiya Kamitani riuscirono a conquistare i tanto agognati titoli per la seconda volta in carriera avendoli già posseduti nel lontano 2020. Al termine di tale match Afrodite ha subito dovuto prendere atto di una nuova sfida, sì perché sono state sfidate da Natsuko Tora e Momo Watanabe. I membri di Oedo Tai hanno sfidato le neocampionesse ad un match titolato per Dream Kingdom con la promessa da parte di Afrodite di impedire a XL, così ribattezzato il team composto da Natsuko Tora e Momo Watanabe, di mettere le mani sui titoli. Dunque, nell'ultimo pay per view dell'anno targato Stardom, i Goddess of Stardom Titles saranno messi in paio in un match che per certi versi va a chiudere la rivalità tra Queen's Quest e Oedo Tai. E in particolar modo tra Utame, Ayashishita e Natsuko Tora, rivalità iniziata la scorsa estate quando Oedo Tai e Queen's Quest si affrontarono in uno still cage match ad eliminazione, dove la perdente fu costretta a lasciare la propria squadra. Come ormai tutti sappiamo, questa sorte toccò a Saki Kashima, che lasciò Oedo Tai per riaccasarsi qualche settimana più tardi con Gozai. Ma questa è un'altra storia. Sta di fatto che Natsuko Tora non si è dimenticata dell'affronto subito e lei e le sue compagnie di stable sono pronte a tutto per vendicarsi di Queen's Quest. Ci riusciranno? Io francamente credo di no. Non mi fraintendete. XL è un ottimo team composto da due delle migliori atlete della Stardom, ma contro di loro c'è una coppia leggendaria, Afrodite. Questo team è uno dei team migliori della Stardom, oserei dire al mondo, e sappiamo che il loro valore è altissimo. Stiamo parlando di Saiya Kamitani e Utami Ayashishita, con la prima che è entrata nella storia per aver spezzato tutti i record quando deteneva, fino a poco tempo fa, la White Belt. Mentre la seconda è la leader indiscussa di Queen's Quest e alla sua giovanissima età può già vantare l'aver conquistato sia il Five Star Grand Prix sia la Red Belt. Difficile dunque pensare che Natsuko Tora e Momo Watanabe possano fermare l'avanzata di Afrodite, intenzionate ancora una volta a scrivere il loro nome nella leggenda, conservando i goddess of Stardom Championship per moltissimo tempo. Siamo arrivati anche oggi al tempo dei saluti, ma prima di fare ciò vi chiedo gentilmente di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdervi i contenuti futuri. Vi ricordo che per voi è completamente gratuito, ma per me e per la crescita del mio canale è di vitale importanza. Come sempre qua sotto nei commenti potete sbizzarrirvi a più non posso con i pronostici riguardanti questo match, incontro che sono sicuro ci terrà incollati alla tv. In descrizione potete trovare tutti i link dei miei social per continuare a restare in giornata col mondo Stardom e per rimanere sempre in contatto con me. Dal vostro amichevole Chirito di quartiere per oggi è tutto, grazie di cuore e alla prossima. Sayonara!